Cerchio Marina attraverso Attilio M. Voce della quiete. Vagliano Chiocciola. Gmail.com. Andrea Quando per esempio provate a tal punto piacere nel mangiare da diventare dei cuochi raffinati per voi e per gli amici, questo fatto che è un vostro hobby non decisivo ma importante aggiunge veramente qualcosa in più alla stessa azione vista come necessaria al vivere? È sempre la stessa azione, cioè il mangiare, ma quell'oggetto psichico si è modificato e quindi è più o è meno rispetto a quello precedente? È diverso ed è qualitativamente diverso. È solo diverso, ma il fatto che diventi diverso non significa che abbia modificato le sue caratteristiche di quotidianità. Ha sempre le sue caratteristiche di quotidianità ed è diventato diverso perché la mente lo ha reso tale. Che cosa fate voi nei tre quarti delle vostre azioni quotidiane quando vi realizzate? Fate esattamente questo processo, cioè reinterpretate vecchie azioni in modo diverso perché qualcosa è successo nella vostra mente che vi fa rendere quell'azione se praticate in una certa maniera avvincente, interessante, attraente e realizzante.